la provaccia della giostra della stella i bagnaripoli il vincitore alessandro golini una bella soddisfazione all'esordio e hai vinto con 39 punti un punteggio veramente importante a di mi fa piacere essendo esordiente non è che soltanto esperto di sta cosa però dopo qualche correzione iniziale un po il verso che l'abbiamo preso poi comunque una grande dota di fortuna quella è indispensabile bene abbiamo anche erica chieris anche lei sarà una delle amazzoni che domenica correranno la giostra della stella anno scorso vinse il palio e questa sera comunque una bella prova la tua sì è andata meglio dell'anno scorso oggi però quest'anno ci riproviamo meglio dell'anno scorso bene il terzo cavaliere da Sartiano Guido Gentili anche per lui diciamo che non è un esordio perché l'anno scorso aveva già fatto la prova generale anche se poi per un infortunio non ha potuto correre la giostra invece quest'anno ti sei riqualificato e domenica correrai questo palio delle contrade speriamo che non succeda niente da qui a domenica e no no è andata bene il cavallo esordiente giovane doveva fare esperienza all'inizio era un po indeciso poi comunque si è comportato molto bene mi ha aiutato per qualificarmi quindi bene così e chiudiamo con Gabriele Gamberi te avevi già il pass in quanto il vincitore lo scorso anno eri già qualificato per correre questa edizione e questa sera comunque hai dimostrato che ancora hai quelle stelle nella punta della lancia l'importante è che ci siano anche domenica perché l'anno scorso insomma si vinse ma non come come piace a me quindi quest'anno visto che sarà poi la chiusura cercheremo di fare ancora di più del nostro meglio il lavoro glielo rendiamo difficile a quell'altro ecco infatti lo vogliamo anche dire Gabriele Domenica attaccherà la lancia al chiodo per quanto riguarda le giostre storiche e lo fa in questo contesto una piazza Bagnaripoli che ti ha regalato tante soddisfazioni sì Bagnaripoli è una bella piazza che ho frequentato quando ero bambino come palafreniere di mio padre quindi insomma ci sono cresciuto su questo anello sono stato contento finalmente di entrarci anni fa e mi ha dato anche tante soddisfazioni dal punto di vista delle vittorie per fortuna insomma è una bella prova una bella manifestazione e l'appuntamento è domenica prossima con la quarantesima edizione della giostra della stella palio dei contratti di Bagnaripoli